Andro Barbano, prego. Secondo me il problema non è neanche questo, nel senso che ci sono tutta una serie di altri addentellati giudiziari che potremmo citare e che non sempre si sono risolti perché il fatto non sussisteva, ma si sono risolti perché per esempio sono stati prescritti anche dopo una condanna in primo grado e anche dopo l'altra parte del reato, e mi riferisco all'ex senatore dell'Italia dei Valori, De Gregorio, che ammise di aver preso 2 milioni di euro, è stato condannato in via definitiva. In primo grado Berlusconi fu condannato per il reato complementare al suo e poi il reato è prescritto. Ma senza neanche entrare nel tecnicismo giudiziario, Berlusconi è sempre stato divisivo, quella è stata la sua grande forza politicamente. Però quello lo dice anche Prodi di senno, è pure un nome di questa età. Infatti Prodi si chiama fuori dalla corsa al curinale perché dice io sono di sinistra, non posso fare il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è una roba seria, non possiamo permettere che sia una figura che polarizza il discorso pubblico, deve essere una figura di incontro. E aggiungo, magari una donna no perché sembra che neanche stavolta, ma neanche un uomo che ha dato delle donne un'immagine come quella che ha dato Berlusconi. Ilaria Sotis che immagina dato è prescritto.